A prima vista Berhoff in Ucraina non c'è alcun segno della guerra in corso, ma molti dei bambini che ora giocano nella piazza principale della città vivevano a Kharkiv, Mikolaev o Mariupol. Insieme alle loro famiglie sono fuggiti dai combattimenti in cerca di pace vicino al confine ungherese. Molti di questi rifugiati interni hanno trovato un posto sicuro nei dormitori e allestiti anche nelle scuole. Ophelia e sua figlia arrivano da Kiev. Non vogliamo in alcun modo andare all'estero, dice, vogliamo aspettare che la guerra finisca e poi vogliamo tornare a casa. I bambini provenienti dalle zone del conflitto sono ora seguiti da uno psicologo e seguono lezioni di disegno. Le loro piccole opere d'arte vengono mandate poi ai soldati in prima linea. Un modo questo per elaborare quello che hanno vissuto nelle ultime settimane. Come ci spiega un insegnante, alcuni ragazzini purtroppo non sono in grado di comunicare però dopo i terribili eventi vissuti. Di recente anche Berhov ci sono stati dei raid aerei ma nessun bombardamento. Il suono delle sirene non spaventa più come prima. Le scuole però sono chiuse e si è passati alla didattica distanza. Quello che angoscia maggiormente è l'incertezza, dice quest'uomo. Non sappiamo se la guerra arriverà fin qui o no e se dovesse arrivare non sappiamo cosa potrebbe accadere. La gente del posto fa notare che almeno un quarto della comunità ungherese della città si è già trasferito in Ungheria. Molti infatti temono di essere reclutati per combattere. La guerra potrebbe avere un impatto a lungo termine sulla Transcarpazia anche se alla fine c'è chi pensa che qui non arriveranno i combattimenti. Tanti ungheresi stanno però attraversando il confine insieme a migliaia di ucraini. Arrivano dalle zone di conflitto e questa migrazione potrebbe ridisegnare relazioni e comunità.